Valentina Tirozzi felice, l'Italia ce l'ha fatta, si è qualificata? Sì, siamo state proprio brave stasera, al di là di un piccolo blackout nel secondo set siamo state veramente aggressive nel modo giusto, è stata una bella partita da vedere penso anche per questo bel pubblico che c'era stasera ci meritavamo di concludere questo percorso in questo modo come ho detto già più volte l'Italia si merita questa qualificazione e finalmente è arrivata soddisfazione quando ti hanno richiamato in azzurro, l'obiettivo era questo, ce l'abbiamo fatta assolutamente sì, quando io sono stata chiamata proprio per questa manifestazione quindi per me questa era la mia olimpiade, parliamoci chiaro nel senso che era importante questo obiettivo e siamo state brave tutte con questo gruppo così giovane che ha avuto così poco tempo per prepararsi a portarci a casa la qualificazione con 6 vittorie su 6